sì si può fare dai una bella sedia su blender dai allora salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video so che adesso hai appena iniziato a modellare a fare animazioni su blender vorresti creare qualcosa e so già che vorresti iniziare dalle cose più banali più semplici va bene io direi di iniziare da una sedia allora come fare una semplice sedia allora partiamo prima da movimento ok dobbiamo spostare il nostro cubetto spostiamo lo mettiamo da qualsiasi parte ok io adesso premo x non aspettate premo g e lo sposto dove voglio io oppure se premo g z ecco come puoi vedere spostiamo dall'alto verso il basso oppure premo y ecco sull'asse verde oppure z x sull'asse rosso ok e torniamo da cavo premendo ctrl z ok io adesso comincio a fare una piccola sedia allora partiamo prima da s ecco così qui è scala oppure facciamo direttamente così prendiamo quest'asse blu ecco allungo un po ecco così ok perfetto ora vado su ctrl r ora vado su ctrl r passiamo alla modalità modifica ctrl r ecco qui ctrl r di nuovo perfetto perfetto poi di nuovo ctrl r ma questa volta basta toccare l'asse rossa ecco aspettate di nuovo ctrl r sempre vicino all'asse rossa e faccio così ecco visto poi ora io adesso devo fare le gambe facciamo le gambe basta premere 3 e passiamo sulla modalità faccia quindi seleziono la faccia tengo premuto shift e clicco tutte le facce e come ciliegine sulla torta premo e ecco wow wow ctrl z ctrl z fermo no no fermo ti prego ecco ecco ok ok abbiamo fatto le gambe scelte un po storti sì un po storti si un po storti di nuovo ctrl z perfetto premo e stop ok perfetto ora dobbiamo fare lo schienale, quindi facciamo lo schienale, premo, trattengo, shift, seleziono le facce, premo e, e alzo, ecco, no, ecco, perfetto ora passiamo a chiudere lo schienale, quindi coprire questo spazio vuoto, ok, io faccio così, mi sembra più grande e più piccolo, vabbè, è sempre una setia non sono un professionista, però ho imparato a fare una setia ok, ora faccio su, istruti, facce, ecco perfetto ecco qua, una semplice sedia da una parte più grande, da una parte più piccola ma siamo riusciti a fare una semplice sedia premo un attimo 5 per vedere, ok, 7, perfetto andiamo nella telecamera, premendo 0, sul tastierino numerico, quelli là in fondo a destra sulla tastiera perfetto grazie a tutti per questa visione lascia like al video se ti è stato utile iscriviti anche al canale perché noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.